Ciao a tutti cari amici del Bighe, il canale dove la passione per la tecnologia e i droni ci unisce spesso con i voli, con le norme, con le polemiche a go-go che ci sono ultimamente, con modelli nuovi che arrivano di droni, con aggiornamenti e molto altro. Ma oggi però ci ritroviamo a condividere una storia che tocca profondamente, diciamo il cuore un po' di tutti e solleva riflessioni importanti sulla sicurezza, sulla dedizione che noi mettiamo a fare ciò che amiamo. Una storia vera accaduta proprio ieri che colpisce di fatto uno di noi, uno in cui noi ci rivediamo, un amante dei voli con il drone, un amante delle condivisioni dei propri voli, come faccio sempre io e come fate voi, molti di voi e non possiamo non parlarne in questo sabato di marzo, io ora ve lo dirò, sono qui nella vigna, ho appena scariato le mie tre batterie perché così scarico tutte le tensioni della settimana ma ne parleremo e vi racconto in una giornata con tanto vento quello che è accaduto. La storia di Giancarlo io l'ho saputa grazie ad un mio iscritto, Eldami, che ringrazio, mi ha permesso oggi di condividerla e di raccontarla qua nel canale e ovviamente con chi mi segue, io dopo aver saputo il fatto, beh come faccio ogni volta, quando mi girano le balle in generale mi rifugio con i miei oggetti preferiti, mi rifugio in loro, prendo uno dei miei droni, oggi tanto vento, non me ne frega nulla, quattro batterie, volo, volo, volo senza uno scopo particolare, così credetemi, mi rilasso tantissimo e allento tutte le tensioni magari della settimana, della vita, spero che qualcuno che ama questo mondo mi capisca e si riveda in me in questo, non necessariamente dobbiamo andare a fare cose impossibili, basta liberare il drone e volare, per me è vita e dopo essere venuto qui alla vigna, io ho scaricato ovviamente le mie tossine, ho fatto tre batterie e ora niente, vi racconto il successo, ovvero nelle acque dell'astico, un torrente che serpeggia attraverso le gole di Arziero, che è un comune italiano della provincia di Vicenza, in Veneto, si è consumata una tragedia assurda, assurda, che riguarda un po' tutti noi da vicino, Giancarlo, Giancarlo Busin, 61 anni, era noto e stimato proprio perché era un operatore di droni e volava continuamente e ha perso la vita in un tentativo di andare a recuperare proprio il suo drone che era finito giù nel fiume. Giancarlo era lì, nelle gole del fiume, per fare ciò che come tanti, io compreso, amava di più, ovvero prende il drone e volare, catturare immagini che solo, lo ripeto, chi usa un drone e vola per piacere, sa cosa offra e io mi sono appena aperto con voi in questo, ma quando il suo drone è precipitato nelle acque fredde, il suo istinto ovviamente, come facciamo tutti, è quello di affrettarsi e andare a recuperarlo, come potrei fare io se mi cade qua sotto, qua sotto c'è un dirupo, qua dietro la vigna, se mi va giù io vado a corsa a recuperarlo, magari anche inconscientemente mi butto giù e quant'altro, ma in base alle informazioni iniziali Giancarlo Busin stava pilotando appunto questo drone, era sopra il contrapria, quando all'improvviso il suo drone è iniziato a scendere finendo nelle acque del fiume. Di fronte a questa situazione lui, anche Dio, un esperto dronista, ovviamente ha preso la decisione che poi è stata la decisione fatale, ovvero andare nelle acque, entrare nelle acque del fiume spogliandosi parzialmente per cercare di recuperare il suo drone, il suo oggetto, come magari potremmo fare tutti, come magari avrei fatto anch'io. Alle 20 è partita l'allerta, quando sono stati trovati sulla sponda dell'elastico il telecomando del drone e i vestiti di Giancarlo. Le operazioni di ricerca avviate senza nessuna indugio ovviamente da parte dei vigili del fuoco che sono arrivati da Schio e da Vicenza, anche dei sommozzatori di Venezia e ovviamente del personale di soccorso alpino, proprio di Arsiero, si sono messi subito in moto, hanno cercato subito di capire dove era finito appunto Giancarlo e sfortunatamente il suo corpo senza vita è stato ritrovato poco prima della mezzanotte, a una profondità di 8 metri. Adesso le indagini sulle cause del tragico evento sono in corso da parte ovviamente dei carabinieri, ma il sospetto è che abbia avuto un improvviso malore e questa sia la causa principale del suo decesso purtroppo e magari poteva accadere uguale però il tutto fa sicuramente riflettere e come ovvio che sia la comunità dell'alta valle dell'elastico è ovviamente in lutto perché lui era un narratore di storie, come facciamo tutti, attraverso il suo drone, lui raccontava le manifestazioni locali e valorizzava il territorio, come piace fare un po' a tutti noi, come faccio io, ogni suo video era un qualcosa che trasmetteva dice amore, dedizione proprio della sua terra, io mi rivedo lui, io faccio video e condivido la mia grande passione e lo faccio perché mi piace tantissimo e lui era diventato bravo, aveva iniziato collaborazioni con i televisori locali come tecnico e aveva ampliato appunto il raggio delle sue azioni e dei suoi voli, dunque era una persona comunque che si era veramente fatto notare e soprattutto aveva dimostrato di essere davvero una persona in gamba. Questa storia ci interpella direttamente, ci arriva direttamente al cuore, parla di passione, d'amore per questi oggetti, per il volo ma anche dei pericoli magari delle volte presi dalla foga e dal desiderio magari di non arrendersi, se abbiamo un problema con il drone e magari sottovalutiamo, magari a Giancarlo poteva succedere uguale, però è vero che noi, è successo a tutti che perdiamo la testa se perdiamo un drone e la sicurezza deve essere al primo posto e questo video che racconta questo fatto deve essere un monito, diciamo che se succede qualcosa, dobbiamo comunque porre sempre attenzione, essere preparati a imprevisti, valutare tutto senza fermarsi al momento e farsi prendere ovviamente dal pane. Lo so che è difficile, magari Giancarlo poteva, se ha avuto un malore poteva succedere uguale, però la storia di Giancarlo non è solo una tragedia, è un campanello d'allarme per tutti noi che condividiamo questa passione e spero che questo video possa onorare innanzitutto la sua memoria, mantenendo appunto viva la nostra passione, ma facendo in modo che noi ricordiamo le persone che amano questo mondo, che magari per questo mondo hanno questi incidenti, magari delle volte più grave, delle volte meno e oggi più che mai dobbiamo ricordare che dietro ogni volo, dietro ogni immagine catturata c'è ovviamente anche una possibilità di un incidente, di un guasto al nostro drone, lo diciamo sempre e magari anche di un errore nostro umano e dunque dobbiamo essere sempre molto attenti alle azioni quando perdiamo il drone, quando ci succede qualcosa al drone. Facciamo in modo che questa storia rafforzi la nostra comunità, unendoci non solo nell'amore dei droni e della tecnologia, ma anche nella cura e nell'attenzione che se perdiamo un drone non dobbiamo mettere a rischio la nostra vita, perché un drone si ricompra alla nostra vita purtroppo no. Cerchiamo di essere più sereni in un mondo quello dei droni sempre più difficile per normative complicate, sanzioni assurde, divieti improponibili, persone che hanno l'odio contro altre, è veramente diventato uno schifo in questo senso. Io vi anticipo un video a tal riguardo e che spero possiate guardare nei prossimi giorni, una denuncia per un drone, una storia assurda sulla quale dovrete riflettere, molto interessante e vi consiglio assolutamente di seguire se fate dei video con il vostro drone. Ci si vede alla prossima dai bighe, un abbraccio a Giancarlo, ovviamente che riposi in pace. Ciao, ripongo tutto e ci si vede alla prossima.